Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. I primi momenti di difficoltà per Shai la gatta al grande fratello sono già emersi. La concorrente è scoppiata in lacrime durante una conversazione con Lorenzo Spolverato, confessando di sentirsi confusa e piuttosto a disagio dal punto di vista psicologico. Tuttavia, la situazione è peggiorata quando la regia ha deciso di censurare il suo microfono mentre parlava con altri coinquilini, silenziando improvvisamente la conversazione. Shaila, ex velina di Striscia la notizia, sembrava non aspettarsi una simile reazione da parte degli autori del reality, come si può notare dal video diffuso online. Il pubblico, infatti, non ha avuto la possibilità di ascoltare l'intera conversazione poiché il suo microfono è stato prontamente disattivato. La discussione di Shaila stava toccando l'esperienza vissuta ad amici di Maria De Filippi, quando, improvvisamente, l'audio è stato completamente silenziato. Nonostante le immagini continuassero a mostrare lei e gli altri concorrenti intenti a seguirla, le parole non erano più udibili. Ciò che sorprende è che non sembrava stesse rivelando nulla di particolarmente scottante, l'ex velina stava semplicemente facendo un parallelo tra la vita nella casa del grande fratello e la sua partecipazione ad amici, spiegando che anche li erano isolati in una «casetta» con le telecamere, uscendo solo per le prove. Nulla di nuovo per il pubblico, considerando che questi dettagli sono già ben noti. Tuttavia, per ragioni non del tutto chiare, gli autori hanno deciso di interrompere il dialogo. Rimane il mistero sul motivo della censura nei confronti di Shaila, che partecipò ad amici nel 2015, quando aveva solo 19 anni. E voi, cosa ne pensate e quale mistero si nasconde? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.